Diciamo intanto, grazie per essere venuti qui, ci tenevo ad essere a fare un ultimo incontro in questa sede che mi ha visto lavorare per 5 anni, arriverà poi una dichiarazione scritta ma la sostanza, intanto io ho telefonato circa mezz'ora fa da Alberto Cirio per riconoscere la vittoria netta e la conseguente sconfitta pertanto netta da parte mia e quindi quando si perde è sempre il comandante in capo dell'esercito che si assume la responsabilità della sconfitta, se si è perso evidentemente prima di ogni altra considerazione vuol dire che la mia persona e la mia proposta programmatica non sono stati sufficientemente convincenti per i piemontesi e di ciò io mi assumo piena la responsabilità.